La terza guerra mondiale è già iniziata. Semplicemente non ci viene detto perché i governi di media disonesti si dedicano a tenerci all'oscuro, impegnandoci con la diffusione di notizie per distrarci. Usano il tempo rimanente per accumulare scivo, munizioni, forniture mediche e metalli preziosi per loro stessi e possono fare questo solo nascondendo la verità della situazione il più a lungo possibile. Il primo ministro serbo Aleksandr Vucic ha avvertito pubblicamente durante il primo giorno dell'ultima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York che il mondo sta per vivere un grande conflitto mondiale che probabilmente inizierà nei prossimi due mesi. La Nato è già in guerra con la Russia e Putin si sta preparando per una battaglia continentale anche se la Nato non lo ammetterà mai. Le condizioni sono già molto oltre il punto di negoziazione o de-escalation tra la Russia e l'Occidente. Putin ha capito che ha a che fare con degli psicopatici i quali non possono essere motivati o dei quali non ci si può fidare, non rispettano alcun accordo di sorta. Vedi la Costituzione italiana negli ultimi due anni e mezzo, sa che deve combattere o morire. La follia delle nazioni occidentali ha intensificato questo conflitto fino ad una condizione in cui chi per primo userà le armi nucleari avrà il vantaggio. Ma la Russia è avanti di oltre 30 anni sull'Occidente in termini di armi nucleari e difese antiaeree. L'arsenale nucleare della Nato è antico, per lo più in esecuzione su progetti originariamente progettati negli anni 70, mentre le capacità nucleari della Russia sono avanti di almeno due generazioni, modernizzate con velivoli di rientro iperplananti, capacità di manovra evasiva per missili balistici intercontinentali, missili personici da crociera con capacità nucleare e sistemi di difesa antiaerea altamente avanzati che possono intercettare e abbattere persino i missili balistici intercontinentali in arrivo. Inoltre la Russia possiede armi segrete del giorno del giudizio, ben oltre le loro bombe termobariche, che il mondo non ha mai visto, anche se non penso abbiano realizzato queste tecnologie. L'Occidente è stato completamente investito nel pensiero delirante delle narrazioni fiabesche e vedi missioni spaziali inesistenti, facendo sognare la gente di andare su altri pianeti che non hanno alcun collegamento con la realtà. Non dimenticate che la Russia non è una nazione del terzo mondo. La Russia non può essere smantellata economicamente con le sanzioni occidentali e la Russia ha la propria catena di approvvigionamento per tutto ciò di cui ha bisogno per nutrire la sua gente. Se la NATO dovesse innescare il conflitto, Putin non si tirerà indietro perché è molto più intelligente di qualsiasi pazzo cognitivo che guida Stati Uniti, Regno Unito o i fantocci dei paesi della NATO, Italia compresa. L'Occidente ha già calcolato a grandi linee le sanzioni del suo suicidio, ma continua a non ammettere i propri errori catastrofici. Le sanzioni stanno distruggendo l'euro, ma non il rubro. E ora tutta l'Europa occidentale deve affrontare un inverno di oscurità, carestia, gelo. Non dimentichiamo che la Germania ha già distrutto l'Europa occidentale, Italia compresa due volte, con la prima e la seconda guerra mondiale. Andate pure a votare col sorriso di fare il vostro dovere, perché questa tematica, meglio questa problematica, non è fra nessuno dei programmi degli ultimi che si sono candidati. non credete mai a nulla di quello che vi raccontano.